Ciao a tutti, quando è necessario prendersi una pausa in amore? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tremasco. Ti ricordo di notare che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, quando in amore è meglio prendersi una pausa? Allora, beh, allora intanto dopo che avviene una rottura sicuramente devi prenderti una pausa, non c'è verso se vieni lasciato minimo, minimo, minimo una pausa di 21 giorni per ricostruire te stessa e per evitare di cercare l'altra persona. Quindi questo è tassativo, necessario. Se vuoi valutare in ogni caso la possibilità di ottenere qualche cosa, di sviluppare una conoscenza più profonda, devi assolutamente prenderti una pausa. In una pausa, in questa pausa che fare? Beh, in questa pausa ricostruire, diciamo, riprenditi cura di te, trovare nuove modalità per stare bene, questo è fondamentale, nuove abitudini e perché no? Conoscere nuove persone, prendersi almeno 21 giorni, un mese di tempo da dedicare totalmente a se stessi, lasciando nell'oblio, nel dimenticatoio l'altra persona. Questo ce la puoi fare, ma è il motivo, cioè è veramente utile questo, ti permette di ricostruire qualcosa. Tra l'altro permette di far scivolare via la rabbia sia tua sia eventualmente dell'altra persona. Questo è un punto fondamentale. Può essere difficile, diciamo, se ci sono state delusioni, però ce la si può fare. Non puoi avere un rapporto positivo con una persona o una nuova persona se non ti piace abbastanza, se non ti dai delle emozioni a sufficienza. Questo è da tenere presente, questo è un fatto fondamentale. Se tu non riesci a vivere le mie emozioni, non potrai, diciamo, dare, vivere una relazione con un'altra persona. Devi ricaricare necessariamente le batterie. Questo è una cosa fondamentale. Lavora, promuoviti, stabilisci nuovi contatti. Ecco, questo è sicuramente una cosa necessaria. Poi eventualmente puoi recuperare la relazione. Invece non è opportuno tanto avere una pausa quando le persone dicono, ma una ti dice prendiamoci una pausa, poi ci ripensiamo. Ecco, queste pause temporanee in realtà sono logoranti. Cioè, pause in cui devi fare che cosa? Cioè, o la relazione si chiude o si apre. Non puoi stare in stand by. Ecco, questo non devi mai accettarlo. Se uno ti dice, ma prendiamoci una pausa di riflessione, poi diciamo cosa fare? Beh, in questa pausa di riflessione riflettiamo, ma per me la relazione è chiusa, quindi è come se fosse finita. Non accettare una relazione in cui mantieni fedeltà, ad esempio, a qualcuno che poi non sa esattamente cosa ha nella testa. Questa invece è una delle circostanze in cui non vale la pena e non bisogna assolutamente accettare uno stand by. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, attivando la campanella così potrai ricevere la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise mirate alle tue domande. Soprattutto potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminar del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.